Grutto E dagli torto Ti ammazzo, brutta Ok, dimmi se così migliora un po', ho provato a cambiare il server di trasmissione Il personaggio è del tuo amico Quello brutto lì Che se sta fermo un attimo Quello potente Quello buggato Eh, ma magari vuole vedere... Sì, 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 infatti stavo andando su Visualizza Profilo Così si vede meglio, più che altro si vede fermo Sì, ma aspettavo Devo solo trovarlo un attimo Ti do direttamente il link al mio... Ah, beh, il link su Diablo Su Battlenet Sì, lo so trovarlo È vero, così facciamo... È un po' più comodo anche per te Se cosa vuoi vedere Sì, non guardare i nuovi personaggi perché... Quando è uno in cretino richiama minchia Voilà, in quel link hai tutti i suoi personaggi, eccetera Il migliore è Sbocco Però... Non ho detto niente io, eh E se lo dice lui? No, no, lo dice Sbocco Ah, lo dice Sbocco Uh, me no, no Sì, sì, qualcosa abbiamo trovato a forza di giocare comunque la roba esce ci vuole giusto un minimo di pazienza e poi tanto sparando puttanate il tempo passa non è che funziona tanto bene la muletta degli arti perchè hai messo la muletta di s la s di joan è un po' strano quell'amuletto si c'è un proc che fa tutta l'interno della posizione però quando proc li tira parecchio però dai tutti qua anche a seconda non può h mai torso o anancio si aspetta ho guardato un attimo perchè laggava la live e non ho più guardato quello ti ho postato un link aspetta non ti è rimasto se qua ammazza questo e te lo luca no vabbè non ti sei cagato neanche dell'esplosione ma va a cagare ma no vabbè qui mi dice che l'ultima l'ultima evil edition che non so cosa voglio dire sono 58 giga che non so cosa voglio dire sono 58 giga ah perchè ce n'è una probabilmente una lingua 26 giga vuoi dirmi che ci sono 30 giga di lingue? beh ti dico che titanfall per esempio aveva un disco di installazione era anche lì 50 giga e la maggior parte erano semplicemente l'audio non codificato quindi era tutto adesso li uccido è stato solo scrivendo ma si 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 ho visto ho visto vabbè che non faccio male però qua faccio ancora un po' arma poderosa a due mani arancio eh ho paura siano quei dialoghi lì anche se 30 giga di dialoghi che alla fine ci saranno i film filmati 2-3 dialoghi e poi tutte le frasine oh mio dio sono troppo figo eh si ma se ti ricordi quando guardi i posi anche lì la storia è tutta in è doppiata si si eh devi scaricarle tutte per forza almeno dipende guarda se magari ci sono due versioni perchè lì me le da come due versioni diverse poi dipende magari se la prendi magari la scarichi dallo store playstation o la vai a comprare che nel suo dal game store o amazon il disco fisico vabbè il disco fisico dovrebbe già tirarti una bella botta eh sì magari lì ci sono solo più gli aggiornamenti però vabbè dovrebbe essere una minima parte o comunque non 60 giga sicuramente speriamo se vuoi ho un collega che ce la provare a chiedergli se mi dice quanto occupa giusto giusto c'era su PS4? si ma disco fisico o? no no se ne abbiamo no pirla l'ha comprato da CD fisico o l'ha comprato dallo store download eh non lo so ma perché eh sullo store c'è solo la evil edition eh quindi quindi boh però lì non è però lì non hai retro sold ah no la evil edition è quella da 26 giga eh a meno che non abbia oh scusa adesso si pico a meno che poi non te lo faccia scaricare dopo per lui e non siamo pratici purtroppo di PS4 quindi Isa? Isa? ti è stato considerato ehm ahahah 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 guardiii se la store se riesci a capire quanto occupa ahahah 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 posso chiudere? per me si beccati ste due trasmogrifiche bello il mattello ci sarà un'armatura? uguale non male eh no l'armatura devo usare quella del set eh la fascia del balone un po' sento schifo l'arcangema lasciamo perdere intanto vediamo eh se riesco a trovare qualcosa io ah no andiamo a trovare qualcosa io Le sedie che cigolano sono sempre benvenute. Spiace, mi dà la connetta. Cosa dirvi qua? Calcafuoco ne ho già troppi quindi vai pure a rangiarti. Allora usiamo 1, 2... Bla 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 bla... Vediamo, magari da PC si aspetta. playstation network vediamo se me lo dice da qua dal pc accedi accedi ho un account si ma non ho la ps4 quindi inutile che infatti neanche mi ricordo la password oh mio dio ok lascio perdere il login ps4 cerca diablo 3 no, l'ultima firewall edition c'è già Ripper of Souls quindi c'è già anche l'espansione si dovrebbe si 0v1 si si sono maggiorenne si 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 impatici però che non ti dicono un tubo funzionalità tu inizia comprando questo lo diciamo diablo 3 Ripper of Souls ultimate firewall edition FX eh l'FX è quella da 60GB ah ok ti chiede che lingua vuoi scaricare e ti scarica solo quella beh su x meno non so su ps4 ma su xbox one lui ti prende la lingua che è impostata sulla console quindi se hai la console italiano ti scarica in italiano almeno non so se scarica o utilizza solo e si scarica comunque tutto però comunque utilizza quella della console base quindi perché lo prenderesti solo dallo store lo scaricaresti proprio tutto perché se è così preparati a un lungo download nella speranza che invece sia un po' più corto e giusto per curiosità che genere di connessione avresti? giusto per fare due conti e poi Isa poi le PSS PlayStation Network ti da comunque abbastanza banda Normalmente va abbastanza Allora ci devi solo dire quanto vai di solito Con che connessione hai Così ti facciamo due calcoli Fastware e fibra Metti meno di noi Probabile Che ne abbiamo la metà da scaricare Ma è tutto un po' più vicino Ma fibra quanto Perché 30 mega, 100 mega, 300 mega 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 Perché sai la 100 mega A scaricare 60 giga ci metteresti Niente praticamente Perché io con 10 mega scarico circa 30 mega su wifi però Ma in teoria non dovrebbe dare grossi problemi Se il segnale è buono non dovrebbe dare grossi problemi Se hai la 30 mega Allora io la 10 mega scarico 3 giga su Allora Circa Quindi tu scaricheresti Metti una decina di giga all'ora Diciamo che lo lasci di notte Se è a posto per il mattino Ovviamente calcoli molto Veloci Se lo lascio in una notte scarichi 60 giga Il mio sogno di quando avevo la telecom Il mio sogno di quando avevo la telecom Il tuo sogno è franto di quando avevo la telecom Qua c'è un giallo Anche qua E' così Calcoli da gamer Sì Più che altro con qualcuno che all'inizio scaricava 300 mega Allora Stivali verdi Io voglio arancio però E qui tiro la sassata merda ma Sì sì Comunque se ci metti una notte a scaricare 60 giga Da sto punto Non è neanche tanto un problema Aia le Falline di merda Se l'avevo droppato qualcosa che potrebbe essere Che genere di cosa Facciali Ma non è detto Io ho trovato gli stivali del re immortale Ho già tre pezzi del re immortale Cavolo Stato tutto stiamo continuando a livellare come delle bestie Ehm sto blu Ah è sempre un blu? Eh sì Ecco perché non erano altri tibucetti Adesso infatti io sono usciti Conduzione Vado Non tanto perché sono già rimasto Ingrumato qui Permesso per favore Mazza due mani Grazie Che casino lì con tutti sti fulmini Tutti insieme E' finito E' qua Ma no Protezione per spalle Un quanto lì Uno stroncafato E le spalle Quelle del teletrasporto All'inizio come consiglio di villare Non hai tante scelte Perché all'inizio C'è solo la storia da fare Quindi Ti tocca Non ci sono tante altre strade Volenti o nolenti Oppure trovi qualche amico Che Gentilmente ti aiuta a silire Molto più veloce Ma per sbloccare la modalità avventura Quella che praticamente stiamo facendo noi Con tutte le cose extra Robbe così Devi arrivare almeno con un personaggio a 70 No Devi finire la storia Anzi Non al 70 Quindi un giro di storia comunque ti tocca Ma non è lunghissima la storia Una decina d'ore Noi l'abbiamo fatta Cominciando da zero Proprio Totalmente da zero Quindi Non è chissà cosa E' fattibile comunque Ma il goblin l'hai ucciso Lo sono io Seguo Aspetta Seguo la scia di Quanta roba Ancora un progetto Era degli ingredienti Per quello che li sono fatto L'imbecille del pacco Dov'è? Era sopra Una volta non è male Fa Pasquale E' carina Sì sì Una volta va benissimo Bracciali arancio Bracciali arancio Se ti mancano Se ti mancano Se ti mancano ti rendi Ma aspetta Ho trovato quello del maglio degli antichi Peccato che ha le strezza Oh però guarda qui Cosa? La bellicosa? Ah ah Aspetta che dovevo spaccare un po' di roba se ne ero pieno Allora ecco Ah la bellicosa Ah 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 Interessante L'anello guarda che anche non è male Tanto per cento danni è di elite Eh ma è destrezza Eh lo so Non abbracci? No 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 Allora beccati ste due trasmogrifiche se vuoi Forse questa sarà utile per te La cintura della vigilanza Eh no Non posso metterla Vabbè ma Tienila Servirà più a te che a me forse Perché devo Devo per forza avere Quello di bombardamento Posso chiudere? Sì 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 Yeah Figurati se questa simpaticona aiuta Eh per i cazzini di rules non so cosa farci Io 50 non so cosa Mi fatico ero come una bestia per sti cavolo di Sì assolutamente sì Me lo ridai Sì in faccia Non è a effetto Attorno Sul terreno attorno accacciato E a tutti gli alleati Io do giocare in multiplayer Questa qua È brutto così Guarda Sono tentato di Ascoltarti lo faccio subito Vediamo cosa possiamo mettere Però la coroncina da così la tengo eh Non ci sono storie La coroncina da lord Il problema è che è brutto così Ma non so come migliorarlo È quello il problema Ci faccio la sciarpina con questi Tieni tutta la tintura trasparente Ah dai facciamo così Ma non è però quello vero grezzo Chi è che vende le cose però Questo qua Sì L'avventura trasparente Eh però la coroncina non la tengo proprio Così Non puoi dire che così è brutto Questa tintura trasparente va a cagare Cosa c'è di bello come altre cose Siamo danni No c'è un mazzafrusto Che al posto della palla ferrata C'è un pugno Tanto vedo che qualcuno ha gradito Il tutto con una semplice tintura Che rende invisibile la roba Adesso c'ho la spada uber Puoi provare Ti interessa prendere l'anello di set? Eh servirebbe un giorno o l'altro Tanto siamo qua E anche doppio Non hai tutti i torti Però non ti ho 8 Cosa metto? Eh metti No metti i 6 va Così dovrebbero uscire almeno due cose Per forza Metto l'armatura come si deve Devo proprio Aspetta va Facciamo anche così Uh aspetta fammi mettere la corsa Eh non c'è la tintura decolorante qua? Oddio decolorante Eh c'è quella che toglie i colori Vabbè lo faccio bianco Decolorante ce n'ha sempre tutti Eh invece Aiuta Ok Allora Adesso vado anche a cambiare Non qua Qua Il mucchino è one shot Vabbè allora Facciamo la corazza vera e propria E quasi anche i blu Non neanche ora Ah questo qua Però questi qua con il bordino così Ecco questa va già un po' meglio I pantanocini corti Vabbè rispetto adesso che c'ho il gonnellino Dammi il potere Dammi il potere lo sento da te Usa la forza Io tolgo di nuovo il suono Che tanto fanno cagare Ecco così non mi puoi dire che è brutto Sono diventato il triplo di spessore Ho già fatto un livello Grazie a l'uchino da questo punto di vista Si In guarda se facciamo i dettagli Ok tu dove vado la vado Livello 4 Qui con la spadona così Però il naturale lo preferivo E' più maschio Qui come vedi ci sono un po' di colori Semplicemente devi trovare La fortuna di trovare Il colore che ti interessa Nel mercante Giusto Se no basta semplicemente Di fare la partita Non è niente di che Però Visto che ho trovato il bianco Bianco sia Non è andato a far fuori Nicolas Cage Figurati Il capitano Cage Ovviamente non Nicolas Cage Però Ancora due nemici Moriteli Dai ti faccio il favore Che vado da Aranae Va No Vado io Vai tu? Si si Ho messo la corsa Ah Allora Se la metti Così Perché non mi lasciano Terasportare Santo Dio Perché sei brutto Ah Mi ammazzano in barile Si Mi segna indietro Non lo so Perché secondo me Sopra più che indietro Sai Può essere Anzi Sicuramente Eh Sai come Se entri Se passi dall'entrata La vedo difficile Che vai avanti Beh Eh Ciao capitano Clegg No Devo ancora far fuori Della gente Fai lì Che noiosi State lì Beccati la sassata Voi state lì Mi riesce andare avanti bene Eh Mi riesce andare avanti bene Lì asfalto Col terremoto No Ok Manca solo Aranae Aspetto che Arrivi Eh 19 19 C'è senza Pichiar 33 Dovrei essere Sì C'è uno scherino Vuoi non farlo Beh allora arrivo Arrivo Cosa bisogna fare? Ok Aspettare di un picco Sì effettivamente Sto qua insieme anch'io Allora Spiegare un po' le abilità Vediamo Praticamente Comincio da spiegarti il set Che ho praticamente addosso Che questo consiste nel fatto Tanto stai facendo tutto tu Quindi La primaria La secondaria Allora anzi Eh adesso non posso notificarla Perché siamo in combattimento Quindi ti faccio vedere il set Che Ok finito Ok Passiamo all'abilità Allora Vedi che praticamente qua Su PC Probabilmente su PS4 Saranno le stesse Questo a livello 70 Si hanno Una primaria Una secondaria Che si lanciano col sinistro e destro Del mouse E quattro abilità Uno due tre quattro Semplicissime Più quattro passive Le prime tre si sbloccano a 10 20 e 30 E l'ultima 70 E sinceramente queste qua Non mi ricordo quando si sbloccano Perché sono tipo 6 19 27 Dove così Non mi ricordo assolutamente i livelli Per ogni Classe di abilità Ce ne sono 4 5 Vedi che il barbaro Come primaria Colpo poderoso Fendente Frenesie Lancio dell'arma Ogni abilità Ha la versione base Questa Nessuna runa che vedi Più altri 5 modificatori Per esempio Colpo poderoso Base Fa Il 320% Di danni dell'arma Se gli metto Morso del gelo La descrizione dice Che congeli Il nemico Per Un secondo e mezzo Ogni 5 secondi E tutto è così Ogni runa Ha il suo elemento Anche l'abilità Base Ha il suo elemento E la runa Può modificare questo E robe così Le secondarie Vedi che ce ne sono altre Anche qua Con tutte 5 Le 6 Se mettiamo Includiamo quella base 6 rune E tutto è così Ogni abilità Ha il suo Nella sua fantastica Descrizione E niente Le passive Invece Ce ne sono 20-25 Qua sono 23 Forse c'è il mago Che ne ha un po' di più O sono sempre 23 Non mi ricordo Comunque Non mi ricordo Non mi ricordo Sempre A parte il fatto Che ho contato Malissimo Perché ho contato 5 passive Per riga Sono 4 Devo andare a dormire Sono 19 Così Io ne ho solo 18 Ne sono 18 Ecco Io ne ho 19 Quindi una ventina Mettile così E queste qua Forniscono Modificatori Più o meno Permanenti A determinate abilità Comportamenti di gioco E robe così Per esempio Una di quelle Che non è sempre permanente E che Furore Nel caso del barbaro Aumenta Dell'1% La forza Quando uccide Il nemico Fino a 25 volte Per arrivare al 25% Una di quelle fisse Invece È Maestro d'armi Che in base all'arma E coequipaggiata Nel mio caso Una spada Adesso Mi fornirebbe L'8% Di danni in più Altre invece Si Altre passive Si abilitano Con Determinati eventi Nervi d'acciaio Quando si subiscono Danni letali Cioè Quando crepi In verità È una falsa morte Si ritira in vita E In questo caso Per 3 secondi Riduci i danni subiti Del 95% E sei praticamente Immune a gelo E robe così E questo è per il barbaro Poi gli altri personaggi Avranno le loro abilità Ma Il grosso Diciamo È questo Come vedi Poi Ci sono Abilità primarie Secondarie Difensive Potenza Tattica E ira Per il crociato È leggermente diverso Perché ha una classe Di abilità Che si chiamano Le leggi Che forniscono Abilità Un bonus passivo A tutto il gruppo Il monaco Ha i mantra Che funzionano Più o meno Nello stesso modo Lo sciamano Gli animaletti Cioè Anche lì dipende Tanto dal Dal personaggio scelto Ok Siamo riusciti A segarla Per una volta Senza che scappasse Neanche una volta E così facciamo prima No 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 Non volevo assolutamente Criticare Anzi Cos'è che mi ha colpito Scusate Facciamo un ragnetto Ma poverino Tirel Vediamo di non fare cazzate L'ha fatta Almeno Sto andando ai progetti A me ben o male I progetti Sono quasi finiti Spero che sia una puttanata colossale Almeno Va benissimo Invece Lui Sto scetto è invece Una cagata per me E cosa possiamo fare Se vuoi Uscire Rientrare E fare di nuovo Io me la faccio In un'altra partita Tanto a me Ormai ce l'ho No no Cioè non ho gemme gialle Per fare le progetti Ti aspetto già fuori dalla partita Posso farne due E E tornando alle abilità Adesso Ti mando un link Direttamente Di Diablo Dove c'è tutta la guida Di oggetti E abilità varie Sempre Se lo trovo Ecco Oh Figurati E Se devi andare Allora domani E buonanotte Intanto ti Metto ancora La veloce Questo Ok E buonanotte E grazie per averci fatto compagnia Ciao ciao Grazie Tanto tu hai finito di fare merda Con l'anello Bastardo Devo vedere se ho qualcosa applicato Deve metterci al posto Perché non so 2600 anni a spine 2007 Ok Tutta la roba di corsiata C'hai da mia spine adesso Ma non mi stupirebbe da cosa Visto che hanno fatto il set uber bombato No ma anche C'ho Allora Orlanda da mia spine Eh H la neanche Solo Orlanda Non ce l'ha C'è ma quindi dici proprio da bonus fisso Non lo so Un po' di pezzi ce l'hanno Non ho tanti pezzi del crociato Adesso hanno No Taro roba Ah no Aspetta Ah posso mettermi le spalline Quelle che esplodono 750-950% I danni dell'arma Eh Niente Non so Niente Dell'arma Posso mettermi le spalle Quelle che mi fanno esplodere Eh No Comunque vedo che i set del crociato hanno Quattro Cioè hanno Forza e resistenze Tanti Fissi E quattro proprietà magiche casuali Ah Allora sono io che ho rollato tutto Probabilmente sarà Con priorità Magari Avrà più probabilità di uscire magari Sì Ah può darci sì C'è un niente Quello potrebbe anche essere Ma ne faccio una buccia Ma lo 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 Te l'abbiamo mai detto? Vieni cosa preferisci fare Te ne fai uno Che poi vieni da me o No ma facciamo insieme Va bene Sia mai che ne droppi un altro Magari anche con dandine a spine O con castone Già Andico Eh Questo qua non c'ha dandine a spine Non c'ho più pulcette Giaune Ma gli ingredienti dici? Sì Non c'ho più le gemme gialle Vuoi fare I due per o andiamo direttamente all'uno? Andiamo direttamente all'uno Per l'anello sì 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 Adesso cominciamo a trovare l'anello Poi il resto Verrà Direi Come vuoi Tanto io l'ho già droppato Gna gna No Non è così Perché non me ne faccio un cazzo Perché non me ne faccio un cazzo Perché non me ne faccio un cazzo Adesso posso giocare qualcosa Per ora effettivamente che ce lo hai Puoi cambiare le spalle o braccia Non lo so se c'è qualcosa di meglio Che magari fa più Sinergia con E sì sì Qualcosa c'è lo sto Ma Trovarlo Come tutto il resto Preccia gialle Please Preccia gialle Dove cazzo sono finito? Una freccia gialla Corri dalla freccia gialla Tutti qua Tutti qua Tutti lì Via Ma fammi Per liberare sto Poverello Ok Ok Altra freccia gialla Adesso devo trovare Trovata Anche vicino Perfetto Quanta gente però Quanti nessuni però Lo 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 ha E devi far fuori gente Tu? Come missione Certo Io dovremmo liberare dei tizi Ma finchè non uccido gli stronzi Non posso farlo Perchè mi interrompono il casting Sì Questi sono veramente noi Oggi Quindi Sono costretto praticamente a ucciderli tutti Ma cagare tu che tiri da lontano Ma Ho fatto legna Ma basta Avete rotto le balle voi Ho ucciso mille spettri silvani Già Quelli sono gli spettri silvani Quelli che sono gli alberi Ah Ho segati mille Ho segato mille Così dice la Cement Mira Emon qua L'avevamo segata nella cantina del fabbro Ok Oh madre Oh madre Mille uno Fondamentale quel uno Vado a uccidere il rescheletro Perchè questo qua c'è Tu hai la corsa tanto no? Dicevi Perchè l'altro è da fare il liceo ripulire il liceo Credo che il liceo prima che lo trovi è un po' lungo Beh forse no Perchè il liceo dovrebbe essere più o meno fisso Anche Ma scusa il liceo non è quello Che entri nella sala grossa? Che entri nella sala grossa Non so che sala grossa intendi tu Vado va Tanto il rescheletro qua Non dovrei avere problemi anche da solo Quindi Se mi fanno passare E' quello che pensavi E' quello che pensavi della sala grossa? Penso di si Se vuoi annullare fai pure Quello che si cancello Quei entry C'è 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 Le scale che si aprono a sinistra a destra No non è quello Lì c'è un altro Ok Ripulisci il liceo Ripuliremo il liceo Sgombrare Sgombrare Niente proteste Niente proteste Niente occupazione Chiedili se hanno i permessi Per fare tutte ste cose Anzi che fanno occupazione Pensano di fare i cazzi loro Poi Ammazza frustate Ripetendo Il scheletro Il scheletro intanto se le sta prendendo Non quanto le tireresti tu però L'importante è che le prenda A me non ha fatto nulla Quindi Direi che Direi che L'ha preso abbastanza Con senza gemme gialla A volte che non mi salvano più Vuoi che vengo ancora da te o? E tanto devo trovare sti cazzo dei riti Allora arrivo Così Allora ci dividiamo Dove hai già guardato? Non c'è tanta altra scelta vedo come strada Abbastanza obbligata Abbastanza obbligata Abbiamo detto non l'assuma Vabbè tu vai su Cioè vai da sinistra Io vado giù di qua E uno l'ho trovato Ok ho trovato l'altro Ti mancava solo più quello? Boh allora Ok Noo scheletri Fatemi teletrasportare Vi prego Fatti bravi Fatti buoni Noo Noo Ok ce l'ho fatta Amuleto Mi ha droppato più progetti Di quelli che ho trovato prima Con due cose Ma vabbè Una pazza Un amuleto che non sarebbe neanche tanto male Tu sei un amuleto ormai Sì E più tanto non potresti passarmelo quello quindi In ogni caso Faremo una cadrega di Di ingredienti del primo livello Ne ho già 17 E gli altri ne ho due E gli altri ne ho due Si è già? Sto uscendo Forse Ok vai pure No Devi darci la ciccia Devi darci la ciccia Devi darci la ciccia E allora che lento Vedo che tu sei già partito e tutto quindi Si sono già in Dove sei la? A fare la sala dell'agonia Andiamo ad agonizzare Ok 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 Madonna Che stiamo Oh Ho trovato Se no Uccisioni senza tirare un pugno Oh Fatemi liberare sto poverello Dai Senza cagare le balle Oh Se no è un cadavere Che cazzo sono Veterinaria Medico legale Please Giusto perché è morto Beh però è una mucca Eh allora Eh in quel caso Un veterinario legale Cos'è? E dove cazzo sta la bigliafonda scusa? Non è qua la bestia morte? Cosa? Quello che deve uccidere Oh eccolo qua Quarci Via via Dove anche parlare? Ale ale Quanta gente qua? Tutti qua Nooo Non mi ha dato nulla Allora Qua Vieni vicino così mori Ma dovevi morire Prima di colpirmi Per favore Nooo Con quelle balle Nooo Ok l'ho fatto Tu dove sei? Sei lì? Allora Terre alte meridionali Le minizioni Le minizioni hanno lasciato il gruppo Siamo un po' tutti Lì qua Non ti cacchi addosso adesso? Pareggio Un po' di gente Oh Un po' di gente Alla ricerca della freccia gialla No, bene o male però è arrivata subito E' un po' lontanuccia Quindi E' un po' lontanuccia Ci si accontenta Quanto è lontano secondo livello Quanto è lontano secondo livello? Nooo Frenesia Eh Frenesia Che non l'hai trovato Quando però avevi tutto il Quando sparavi Ovunque a 360 gradi Ma finna capireva Fiditi che va bene uguale Non lo metto in dubbio S'arriva Ma sono due attacchi al secondo S'arriva Ma prima ne avevi due tre Eh ma perché non hanno i dieci stack di Di squarcia Sarà un po' difficile arrivare a dieci stack Se non c'è gente che muore in un colpo solo Toc toc ragnetti Tutti i nemici Va bene Tutti i nemici Va bene Comunque ti assicuro che basta già Entrano di Sì Minchia Ma bastava anche senza Quindi Quanto è lontanuccia della roba Mi è uscita 20 minuti dopo Sì Tu sei ben messo con la missione lì Le mie altre Ce l'ho davanti No perché ho un forziere di quelli grossi gialli Tu aspetto un attimo ad aprirlo Come vuoi Tanto dovrei riuscire ad asfaltarla Sì sì Tanto devo trovare ancora 8 nemici Probabilmente sono minuscoli Probabilmente è tutto il tempo per one shotare Madamala Infatti Sì Sei già qua Cinque nemici del cazzo grossi Così sono Il forziere è qua Te lo saltare Anche tu? Ho trovato due gemmi gialli eh Quindi non è vero Va bene Va bene Poteva andare meglio Ma ti accontenti anche tu Mi sono cadute le proste Una mazza Una mazza Lo sai che è È simpatico Sì E anche nel normale Se ti ricordi le prime volte Tu non ci hai messo niente Io ho faticato come una bestia Però me l'ha data antica almeno Sta mazza Ma è una mano È una mano Eh quello Però almeno potrebbe già essere degna di tenerla Se non altro Ah È contemporaneo A parte che forse c'è anche l'altro Però l'altro cos'è? È l'atto 4 però prende tutta la roba random Da tutti gli atti Quindi Hai voglia Io sono fuori Perché dai fuoco al tuo amico? Perché si mette tra le balle Non raccoglie abbastanza veloce l'oro Non prende anche tutti gli ingredienti Effettivamente potevano anche fargli raccogliere gli ingredienti eh Potremmo fargli raccogliere un po' tutto quello che serve Ma tutto Magari no Però almeno la roba Base Si No? Io gli ho fatto 43 uccisioni Sì 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 Però almeno li puoi lasciare la scelta a chi lo usa Perché se magari i blu non te ne fai nulla O dei gialli non te ne fai nulla O robe così Non ce n'erano mai Beh Se magari ti ritrovi 3 stack da completi degli ingredienti gialli Non ti cambia comunque Si però almeno li puoi valutare tu Se serve o meno Sì Sì Tanto vale Poi Che due Io sono qua dal macellaio Se mi fanno passare Sì 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 Rifiuta pure Se no Non dovrebbe essere un problema Sì 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 Sono anche sul fuoco Non mi fa Nulla Mamma Con 10 stack E E E Pranesia Eh? Allucinante Quanto hai di Non lo so Oppure un pulsare giallo Ok allora se mi dai 10 secondi No Non correre via Macellaio macellato Non ho idea di cosa sia Teletrasporta Da Lucchino Intanto guardiamo cos'è sto macellaio macellato Non l'ho fatto in tempo Ah Macellaio livello 70 o superiore Dove ce l'hai il forziere? All'inizio del livello Sì Oh shit L'avena metallifera qua Non l'attivi Mh? L'avena metallifera qua Non l'attivi Ci serve per la missione Ops All'inizio del livello Sei uno stronzo che non mi ha aspettato Non ho detto così mentre faccio la mission Vuoi avvicinarti un po' o vuoi solo vedere se troppo leggendario o meno? Non guardo solo se troppo leggendario Allora l'apro adesso Un'arma poderosa e protezione per spalle arancio Wow Un piriwiriwish Lolololololol Però ho finito la fucking missione No perchè adesso ti rompono i coglioni Non lo si si Vengono proprio i coglioni Guarda lì Ma c'è anche un mercante Quindi è bello? Niente Figurati se qualche mercante vende roba bella Dovrebbe già farlo cagala E non lo fa No Dovrebbe già farlo cagli Eh si si Dei Seid Perché hai capito tutto al diablo Non ho detto che lo fa Lo dovrebbe fare I risultati poi Sono sotto il naso di tutti Quindi Non mi metto Per l'ex absorbing Prattare Per l'ex E invece no lui è sgravo Lolo Irr non rompete le palle che c'è un alberello del valle guarda il barone dorato ti aspetto no vai pure prossima missione concaggiamente solo eh siamo di basso vieni vieni giallo vieni vieni giallo vieni vieni giallo tutti qui tutti qui tutti qui per favore che bravo possibilmente senza lanciarmi via ok abbiamo finito di rompere le palle si no proprio normale c'è anche un portiere giallo e uno bianco e vabbè hai trovato libero sto tizio e arrivo se le trasporta bla 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 forse era normale wow aspetta wow c'è ancora eh primo libro uomini capra tutte le mie fatiche per degli schifo tussolenti uomini capra c'è ancora uno magda afferma che saranno i nostri migliori alleati e che è un compito per il quale si fida solo di me eh sì stavo facendo questa missione infatti ne ho già liberato uno uno lo vedo qua io mi vado al cazzo minchia ho trovato l'altro perfetto ma che palle tu al posto di tirare quella merda di piu piu muori ct si penso che c'è ciccia hm? ci sono davvero trasportato giusto in tempo cosa la ciccia? bracciali allora vabbè la prendo per il cono ok non lo so ma ci sta riuscendo però non mi sa che dovrebbe essere buona non è vero non è vero mi interessa il pregno uuuu guarda che bei bracciali ah lì vabbè 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 cosa ce l'ho ho trovato le spalline indistruttibili ho trovato cosa cambiare le steeee le spalline indistruttibili? cioè mi nel senso che prima non potevo perché non avevo anello anello adesso invece eh? impegno? no 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 non sto presto cosa? ancora un giro ok poi tanto vado a nan che palle su cinque giri ci è di rompere la broida cd cd 75 nemici probabilmente quattro 20 ci sono già vabbè ci sono anche i blu va bene state qui un goblin arcobaleno ti interessa? vabbè quelli che apro e puoi portare per il livello no 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 se wav è morto se wav andiamo nella valle bizzarra no grazie infatti sto correndo via prima che mi risciucchi chi bravi venite di più lì di più non lo so poco male io sto andando da rescare il re scheletro adesso ce la so fare inquisizione temporale eh che dovrebbe essere quella di libera quella che abbiamo fatto prima ma va il diavolo ma dai salta capito faremo in modalità normale ho cercato di saltare dal re scheletro i pezzi che sono divisi a metà però non ce la faceva e lo so adesso no prima l'ho fatto adesso si è impedito ah ok c'è nulla pure qua ce la fa ok che non la faceva e l'ho sempre fatto alla nascola si ma l'ho fatto prima anche adesso non ha voglia bu gli mancava la sbatta non lo so c'è un becilla c'è un becilla statti fermo e lasciamo lì c'è ora il scheletro c'è ora il scheletro pegno dell'estoffante arancio non potevo vivere senza vuoi farti il tizio delle chiavi poi? ce l'ho qua vicino anche perchè è brutti ed è ben circondato da simpaticoni oh me l'ha droppato il congegno legna da ardere ora vedi aiuta la frontabina qua 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 bla 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 tutti i vecchi oh un verde un manello verde buono c'è che sono studiati che stanno a scocciare di merda c'era un uc di zanarquata non l'ho fatto in tempo a vederlo poi mostro si è messo in mezzo cerca di capire dai anello anello caccia l'anello caccia l'anello caccia l'anello amuleto parli di più anche quella della scheletra che fai cagare progetto un amuleto della rosa dei venti o ah ma ho m opinionato un appartamento Ah pensavo proprio dal tuo amicone Allora vado a parlare di Dio Wow Cagla mi ha dato due Due? Stivali verdi su due Minchia Lo sai che sei rientrato nella stessa partita Eh sì ma perché mi hai detto che ti ha dato roba verde due su due Vengo subito Vengo in cucca te ma So che in questa partita Adrò qua a quei bracciali Vabbè due giadi Puttanella che non sei altro No 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 Io a sto punto faccio che andrà a dormire va Ci sentiamo poi alla prossima Ciao Ciao ciao